naturalmente per coloro che ci seguono adesso siamo in diretta ora ma naturalmente perché saremo seguiti anche in differita e quindi amici parliamo di tante cose sappiamo che c'è lo sport sappiamo che questa sera ci sarà la sfida tra Finder e Djokovic ma dedicheremo anche uno spazio consueto alla nostra musica perché quest'oggi canteremmo e ve lontissimo già un brano del 1991 che non ha bisogno di presentazioni e che scoprirete che canteremo insieme quindi dopo ci sentiamo per parlare di altro ma ora passiamo alla musica grazie a tutti 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 Gli altri siamo noi, scritto da Giancarlo Bigazzi, cantato da Umberto Forzzi a Sanremo nel 91. Amici, gli altri siamo noi. Grazie a tutti. Non sapo mai più solo di così e notte non vorrei che fosse presto lunedì con gli altri insieme. Per fare la città con gli altri che si aprono i soli come fiori quando si rivegliano. I versano, escono, partono e arrivano. Ci sonnino, angeli avvoltoi. Gli altri siamo noi. 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 Che non mi pensano no che sei bers Vatican. che passano un palpito e o non ci servono di lui, con gli etatricani, e non molti per i feriti, di né, di carnetici, sotto un primo po' e, di ansi al corso die ambiental fonte. Di ansi al corso di sanity, Sto a parte di una vita in vita, notare dagli altri, ma tanto prima o poi, gli altri siamo noi. Sto a parte di una vita, notare dagli altri, ma tanto prima o poi, gli altri siamo noi. Sto a parte di una vita, notare dagli altri, ma tanto prima o poi, gli altri siamo noi. Sto a parte di una vita, notare dagli altri, ma tanto prima o poi, gli altri siamo noi. Sto a parte di una vita, notare dagli altri, ma tanto prima o poi, gli altri siamo noi. Sto a parte di una vita, notare dagli altri, ma tanto prima o poi, gli altri siamo noi. Sto a parte di una vita, notare dagli altri, ma tanto prima o poi, gli altri siamo noi. Sto a parte di una vita, notare dagli altri, ma tanto prima o poi, gli altri siamo noi. Sto a parte di una vita, notare dagli altri, ma tanto prima o poi, gli altri siamo noi. E vi ricordo, come sempre, non accetto gente su Instagram che magari chiede amicizia sensualmente per fare cose sconvenienti. Accetto solo ed esclusivamente o artisti o persone che vogliono farmi veramente del bene. Un abbraccio a tutti e detto questo vi invito a seguirmi sui vari social, come sempre. Ciao, a sala vista!